Bene, siamo passati dallo Yemen che era un modello per l'Occidente per la lotta ad Al-Qaeda, uno Yemen indipendente, uno Yemen socialista, ad uno Yemen che è piombato nel caos, parliamo, hanno detto molti colleghi, uno Stato fallito, uno Stato che rischia di cadere in mano al terrorismo e stiamo parlando addirittura di uno Yemen in cui rischiano di essere chiuse le ambasciate occidentali. Di mezzo c'è passata la primavera araba e il vento dei utisti che hanno preso il potere sulla città di Sana'a e dietro di questo c'era, come diceva bene il mio collega Castaldo, la guerra per procura. C'è da capire che posizione hanno in questa situazione dello Yemen, l'Iran e l'Arabia Saudita e credo che è questo il nostro tema di discussione ed in che modo fanno piombare nel caos altri paesi le altre potenze. Noi è chiaro che dovremmo cercare una risposta diplomatica, però il problema è come se non andiamo a dialogare con i corretti interlocutori. Grazie.